e ben ritrovati nel mio canale ragazzi oggi vi riporto su airstone più e precisamente ragazzi sbusteremo 16 pacchetti che ho appena comprato per cercare di trovare qualche bella leggendaria o che ne so qualche carta nuova interessante che ne ho viste parecchie soprattutto per il locco vediamo cosa ci uscirà io vado subito per il leggendario non leggo le carte che mi stanno uscendo poi me le leggerò tranquillamente dopo preferisco avere la goduria di farmi uscire una bella leggendaria che non uscirà sicuramente spero vivamente che mi esca una bellissima leggendaria dai su 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 leggendaria un'epica un'epica altri 12 pacchetti ragazzi altri 12 pacchetti leggendaria vai per la leggendaria nessuna leggendaria nemmeno qui 11 11 ti prego e questa è la leggendaria me ne avevate una gara meno 10 uscirà una leggendaria in questi 16 pacchetti no? dai su 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 bevumela fuori questa leggendaria niente ragazzi sto avendo veramente sfiga pensavo di avere molto più fortuna una comune dorata che non mi serve niente vabbè pensavo di avere molta più fortuna almeno prendere una leggendaria si vabbè mi sto portando avanti con i mazzi insomma tutte e due l'area mi sto portando avanti con i mazzi insomma con la nuova espansione epica epica un murloc per il paladino bello 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 ma è leggendaria 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 nessuna leggendaria nemmeno qui 4 pacchetti negli ultimi 4 ci dovrà per forza essere una leggendaria è meno leggendaria ultimi 3 pacchetti ragazzi ultimi 3 pacchetti vai 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 no ultimi 2 pacchi ultimi 2 pacchi un epica bella epica un'altra epica uguale dai va per il druido non mi serve ci ho avuto pure sfiga qui ci deve essere per forza la mia leggendaria e dammela questa leggendaria ultima carta leggendaria niente ragazzi nessuna leggendaria però abbiamo sbustato un po' di carte insieme per questo video finisce qui ragazzi spero vi sia piaciuto mi raccomando per sostenermi iscrivetevi al canale commentate e soprattutto ragazzi tanti bei pollici in su noi ci rivediamo al prossimo splendido video ciao raga ciao